Sono giorni particolari, impegnativi, giorni fatti di privazione e limitazione. Insieme al personale medico, dottori, infermieri, assistenti sanitari 118, c'è chi in silenzio sta facendo il proprio dovere, come la Polizia di Stato che oggi vorrebbe festeggiare il proprio 168esimo anniversario della Polizia di Stato, ma la salvaguarda della salute dei cittadini è diventata così importante che non c'è tempo per festeggiare, oppure festeggiamo noi con loro, rispettandoli. Un abbraccio per ora virtuale a Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato e ai suoi uomini, che in fondo sono anche i nostri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti